Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime Elande del Crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la capitale della regione del Faharim, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che introdurrà tutti i collezionisti degni di questo titolo in un mondo fantastico, dove creature mistiche, spaventose e mitologiche verranno catalogate in una raccolta che non potrà mancare assolutamente sugli scaffali del vostro tesoretto personale. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia lo starter pack del TCC di Monster, targato Dario Moccia in collaborazione con Panini. All'interno della busta, che riporterà tutti i tratti distintivi della collezione, come logo, titolo e trama, potrete trovare una guida ufficiale alla raccolta, dove tra le pagine saranno descritte le varie fasi che hanno portato questo progetto. Dal piano delle idee a quello reale, come ad esempio le diverse prove di font per la scrittura, il processo di realizzazione delle immagini raffigurate sulle carte, il design delle icone che indicano la tipologia delle creature protagoniste, il perché si è voluto dare il via a questa idea, come riconoscere le rarità dei singoli elementi e la lista completa delle carte che comporranno questa collezione. Un albo raccoglitore di color nero, che come per ogni prodotto della linea, anche qui presenterà tutti i tratti distintivi del TCC sulla parte frontale, e il solo nome di quest'ultimo con il logo della casa distributrice sulla rilegatura, con ben 22 pagine trasparenti a 9 tasche incluse in esso, così da poter ospitare tutta la collezione di 198 carte che formeranno l'intera raccolta, ed infine una bustina di espansione dove potrete trovare, tra le otto disponibili, sempre una carta rara Holo Rainbow e o una Holo Parallel. Le carte, inoltre, riporteranno l'artwork Full Art della creatura di riferimento illustrata da uno dei 40 artisti che sono stati coinvolti nel progetto sulla parte frontale, ed una descrizione del mostro, con un'immagine stile medioevale, che ne rappresenta la natura e tutte le informazioni del caso espresse sulla parte dorsale. Ora, prima di passare ai dati dello starter, vorrei dare qualche info in più su questo titolo. Non è un gioco, non c'è un regolamento alle spalle, quindi se vorrete acquistare questo articolo con il proposito di sfidare altri amici, costruendo dei deck e tutto quello che di solito si fa nei TCG, non sarà un prodotto che farà per voi. Al contrario, se siete collezionisti, buttatevi a capofitto con l'intento di completare l'intera raccolta divisa tra 148 comuni e 50 rare. E a proposito di rarità, ci sarà da considerare, oltre le Rainbow e le Parallel, anche le numerate. In che senso? In Monster esistono per le carte rare le varianti Drop Holo solo 100 disponibili, Carnival Holo 50, Prism Holo 25, Mirror Holo 5 e Cosmo Holo, unica copia. Mentre per le comuni si andranno ad aggiungere alle già menzionate le Crossed Holo, 200 disponibili, e le Mable Holo, 10 copie in tutto. Come farete a capire che si tratta di una numerata? Troverete la serie subito sotto il nome dell'artista sul retro della carta. L'intero starter verrà venduto ad un prezzo indicativo di 25 euro e potrete recuperarlo sui diversi siti dedicati. Personalmente mi è stato fornito dalla fumetteria Aquilana Cosanda Store, link in descrizione. Ma oltre ad esso, vi lascerò anche l'indirizzo web al sito ufficiale di Panini dove potrete procedere per eventuali ordini online. Questo tris di sicuro rappresenterà un validissimo punto di partenza per chiunque vorrà intraprendere il viaggio tra miti e leggende, avendo a disposizione anche un raccoglitore esclusivo che, assieme a Primo Impatto e Flashback, formeranno un trittico dedicato nella vostra raccolta personale firmato Dario Moccia. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!